Ciao ragazzi, bentornati sul canale! Oggi parleremo della sauna viso e degli oli essenziali che si possono utilizzare insieme a questo prodotto e ognuno di noi più o meno una volta nella vita ha fatto una pulizia del viso, un trattamento con il vapore per il viso perché aiuta tantissimo ad illuminare il viso ma anche a liberare i pori, a minimizzare i punti neri di solito in casa il vecchio metodo è quello di far bollire l'acqua, poi una volta che si spegne l'acqua si toglie la pentola al fuoco e tutto il vapore che esce ci si mette con un asciugamano appunto e si beneficia del vapore in questo caso invece quello che vi farò vedere è una sauna da poter fare appunto al viso oppure un inalatore e questo prodotto io l'ho ricevuto da questo marchio qui, da questa azienda qui che si chiama Plastimea Pro Plus e praticamente questa azienda mi ha detto se avessi voluto provare questo prodotto annesso agli oli essenziali e insomma io l'ho provato, siccome ci sono trovata molto bene ho scelto di parlarvene e come vi dicevo è una sauna facciale che vi permette in pochissime mosse, adesso ve lo mostro di ottenere il vapore per il viso e in abbinato alla sauna facciale poi vi arrivano degli oli essenziali che potete ordinare, se li avete già non fa niente, ordinate solo questo oppure ordinate gli oli, ordinate tutte e due le cose come volete comunque sia gli oli essenziali appunto che vi vanno ad aiutare per dei problemi specifici che potreste avere ma parliamo prima appunto della sauna perché è stata veramente una rivelazione è innanzitutto molto molto semplice perché è composta da pochissimi pezzi quindi è semplicissima da utilizzare sotto nell'info box trovate il link diretto per andare ad acquistare comunque sia dare un'occhiata a questi prodotti che si vendono su Amazon quindi insomma li potete trovare lì e avete anche un codice sconto il codice sconto si chiama Chiara10 e avete il 10% di sconto sugli oli essenziali mentre la sauna è già scontata e viene 24,90€ quindi la trovate già con lo sconto l'altro sconto è il 10% valido solo per i primi 50% di voi appunto che andranno ad utilizzarlo vi lascio comunque sia tutto sottoscritto nell'info box così non potete sbagliare però è veramente un ottimo prodotto allora come vi dicevo questa qua è diciamo la base dove voi attaccate alla presa elettrica e al suo interno andate a mettere 50 ml di acqua comunque sia avete un marchetto con scritto max che sarebbe il livello massimo avete anche il dosatore con cui andare a versare appunto l'acqua fatto questo inserite la spina e dopo pochissimo si scalda immediatamente inizia subito a fuoriuscire il vapore potete decidere se fare appunto la sauna facciale quindi andate ad inserire questo attrezzo qua lo inserite dentro e fate la sauna facciale oppure c'è anche l'inanatore semplice solo per il naso oppure potete semplicemente andare a vaporizzare gli oli essenziali nell'ambiente, nella stanza appunto per aiutarvi nell'esempio con l'eucalipto con la menta, magari se siete un pochino a raffreddare per andare a decongestionare il naso e nella seconda parte del video vi farò vedere proprio passo passo come vengono utilizzate tutte le cose quindi cosa faccio io vi faccio vedere proprio mentre io mi faccio la sauna facciale così non potete assolutamente sbagliare adesso vi faccio comunque sia una presentazione del prodotto così ve lo introduco quindi questi qua sono gli attrezzi è molto semplice perché vanno semplicemente incastrati dentro e come vi dicevo potete mettere solo l'acqua se volete fare una semplice sauna facciale oppure c'è anche questo fantastico cofanetto eccolo qua in questo cofanetto ci sono 8 oli essenziali puri biologici appunto con delle fragranze diverse al loro interno come vedete questi qua sono i classici oli essenziali in gocce voi disperdete qualche goccia all'interno dell'acqua che avete già inserito nel litore e questo qua inhalerà anche l'olio essenziale gli oli essenziali però non li potete utilizzare solo per appunto fare la sauna facciale o per vaporizzarli in assenza hanno tantissime tantissime proprietà ad esempio adesso mi è capitato in mano questo qua la lavanda che è perfetto se voi lo andate ad unire a una maschera viso che voi fate comunemente ma anche alla vostra crema che voi utilizzate ha un altro potere antisettico quindi se avete dei brufolini vi aiuta appunto a mandarle via oppure c'è l'arancio dolce l'arancio dolce è famosissimo per andare ad aiutare per esempio con i problemi della cellulite quindi alla vostra crema corpo che utilizzate normalmente aggiungete qualche goccia di arancia dolce e vi aiuterà tantissimo vi dicevo quindi per tutte queste cose qui se volete acquistare ovviamente con il mio link che vedete sotto le potete trovare su amazon avete il 10% di sconto con il codice chiara10 e la sauna è già scontrata a 24,90€ vi lascio adesso alla seconda parte del video in cui appunto vi mostro me stessa mentre faccio questa questa sauna al viso quindi vedete tutti i passaggi non vi potete svegliare spero come sempre che questo video vi sia stato utile che vi sia piaciuto vi sia interessato in qualche modo fatemi sapere nei commenti se avete provato questi prodotti che cosa ne pensate insomma tutto quello che volete sono felice di rispondervi e ci vediamo al prossimo video eccoci qua allora ragazzi vi faccio vedere i minimi tutorial su come utilizzare questa sauna facciale io ho già collegato il cavo alla presa elettrica e quindi questo qua è la nostra base come vedete ha qui il come si dice diciamo l'interruttore 012 è la potenza che voi potete dare e qui ho riempito il becker diciamo con l'acqua e la vado semplicemente a versare qua dentro una volta fatto questo intanto l'accendo girando semplicemente qui come vedete qua sotto la lucina si è accesa e vado a mettere i miei oli essenziali come oli essenziali ho scelto di utilizzare la lavanda e il limone perché ho bisogno di purificare la mia pelle che in questo momento è particolarmente impura quindi vado a mettere 5 gocce di uno ecco ho fatto vedere il tappino come sempre vado a mettere 5 gocce di uno e 5 gocce dell'altro ecco qua e aspetto semplicemente che inizi a vaporizzare già sta iniziando a bollire a sobollire perché veramente ci mette tre secondi nel frattempo metto sopra la mia il mio applicatore per la sauna facciale per inserire qua è molto semplice perché ha questi dentini qui che vanno inseriti negli apposti spazi che sono qui quindi basta metterlo dentro e poi girare leggermente e si blocca ha già iniziato a bollire qua dentro l'acqua che abbiamo versato perché come vi dicevo è veramente veramente forte quindi due minuti ma anche un minuto solo e iniziamo a fare la nostra sauna in casa potete vedere come potrete vedere ha già iniziato ad uscire tutto il vostro vapore quindi eccomi qui basterà semplicemente mettere la nostra faccia all'interno e il gioco è fatto è assolutamente sicuro perché all'interno c'è un divisore di plastica quindi anche se l'acqua bolle sotto state tranquilli perché non vi schizzerà mai sul viso quindi andate semplicemente ad appoggiarvi in questo cosino di plastica e io consiglio di stare 10-15 minuti almeno